allora questi sono a dopo ciao buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video sto andando a fare i capelli e mo vedremo come saranno questi capelli faccio una recensione e dopo vi dico il risultato a dopo ecco stiamo andando al negozio se magari questo è il negozio vediamo fino a Romano allora questi sono i capelli fatti come vedete sono uscito dal partiere e ora mi dirigo verso casa e poi vi farò vedere meglio il risultato ci vediamo tra poco ciao a tutti eccoci allora dicevo siamo ritornati a casa questi sono i capelli allora c'è da dire che le recensioni valgono come prezzo diciamo taglio e shampoo in totale ho speso 28 euro come vedete qui se c'è scritto si vede aspetta non lo faccio vedere meglio ecco 28 euro e questo è il capello e ecco qua allora che devo dire pulito accogliente c'era il parrucchiere era gentile e alla fine dei conti ecco allora noi ci vediamo al prossimo video quindi commentate mettete like iscrivetevi al canale quindi pubblicatelo ovunque e noi ci vediamo la prossima e con altri video e quindi un buon anno 2021 a tutti grazie e tanto tanta felicità e tante cose ciao alla prossima